Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la resegna stampa di Omnibus. La questione del Covid è tornata in maniera preponderante sulle prime pagine dei giornali, ormai da qualche giorno lo sappiamo, da quando ormai ci siamo resi conto di quello che sta accadendo in Cina con questo aumento dei contagi e del fatto che molti viaggiatori stanno arrivando soprattutto anche in vista del capodanno cinese che ci sarà a gennaio e dunque si corre ai ripari nel senso che si iniziano a prendere le prime precauzioni. Dopo l'Italia anche la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna hanno deciso di applicare tamponi nei confronti di viaggiatori in arrivo dalla Cina e per quanto riguarda l'Italia, ieri è stata diffusa anche una circolare le regioni con le prime indicazioni su ciò che c'è da fare nel caso appunto in cui la situazione dovesse cambiare. Situazione che però dobbiamo dire per il momento è sotto controllo, lo dicono i parametri, quel bollettino settimanale che viene diffuso e dunque i contagi sono in calo e le strutture sanitarie sono sotto controllo. Dunque per il momento questa è la situazione. A livello europeo ancora non è stata presa nessuna decisione, la Commissione europea ci sta lavorando. Si parla sul giornale di oggi anche del decreto Rave che è stato convertito in legge, scadeva ieri a mezzanotte, è stata una seduta a fiume quella che ha portato alla sua approvazione che si è conclusa poi comunque con il ricorso alla ghigliottina perché i tempi non c'erano per poter fare tutto l'iter che doveva essere previsto. Questo naturalmente tra i mulmori e le proteste dell'opposizione, urla, gestacci in aula ieri comunque alla fine è stato approvato. Vedremo poi nel dettaglio quali sono appunto gli elementi. A livello internazionale c'è da registrare una videochiamata tra Putin e Xi Jinping con Putin che cerca di rafforzare l'asse con la Cina per uscire da quell'isolamento in cui si trova naturalmente dopo l'inizio della guerra in Ucraina e cerca una collaborazione militare. Xi Jinping apre diciamo così la porta ma invita in qualche modo Putin a continuare a fare appunto dei passi verso colloqui di pace. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Vedete Covid, i timori e le misure. Schillaci, pandemia imprevedibile, mascherine, smart working con più casi, brusa ferro che dice nessun allarme. Passa il decreto rave, bagarra la Camera, alleati divisi sulle norme Novax perché Forza Italia ha delle posizioni appunto che si discostano dagli alleati sulla questione. Così il virus sta vincendo contro Pechino per quello che sta accadendo in Cina e poi per chi parte dalla Cina test obbligatori sì di Londra, Parigi e Madrid. Ancora a centropagina eccolo qua Putin asse con Xi Jinping e gli auguri a Berlusconi. E ancora dagli Stati Uniti rese pubbliche le dichiarazioni scusate dei redditi lira di Trump e ancora in taglio basso Ronaldo che firma un miliardo di euro la rivincita del campione portoghese contratto fino a 2030 con un club saudita. L'apertura della Repubblica che questa dedicata al Covid indietro tutta sottolinea la Camera poi approva il decreto che reintegra i medici e gli infermieri non vaccinati blocca le multe e cancella il Green Pass ma il ministro Schillacci con una circolare è costretto a correre ai ripari di fronte all'allarme contagi. Tenetevi pronti. L'Unione Europea divisa sui tamponi per questo appunto non c'è ancora una linea comune. La Cina che glida al complotto e dice volete sabotarci. Ancora in vista della notte di capodanno il maxipiano della polizia ma è più come Milano un anno fa agenti contro gli abusi in piazza e c'è un'intervista oggi sulla Repubblica al ministro Piantedosi in Libia svuoteremo i centri sulla questione naturalmente che riguarda i migranti. Andiamo a vedere anche la stampa Covid il governo sbanda prepariamoci all'ondata pandemia imprevedibile ma tornano i medici no vax e addio al test dopo il contagio e ancora c'è un'intervista oggi sulla stampa che vi segnalo alla Casellati appello alla sinistra riforme insieme il presidenzialismo serve all'Italia ascolteremo Mattarella. Il messaggero anche questa è l'apertura dedicata al Covid dell'allerta del governo alla circolare del ministro Schillaci e poi si parla appunto dell'approvazione del decreto rave e soprattutto dello scontro su rientro in corsia dei medici no vax e poi c'è il sì nell'ambito di questo provvedimento al carcere ostativo. Oggi c'è un'intervista sul messaggero a Bonami presidente di Confindustria che sottolinea il lavoro sta cambiando servono contratti legati al risultato e poi chiede i sostegni alle imprese che investono. Ancora gli effetti dello sblocco del turnover il boom dei concorsi per gli statali sono 156 mila i posti da assegnare. Ancora dalle auto alle colf l'anno parte con i rincari i pedaggi verso l'aumento cioè all'inizio di ogni anno stop sconti alla pompa da domani va adeguato lo stipendio dei domestici. Vediamo anche l'apertura del sole 24 ore eccola qui l'anno nero di borse e di bond. Nel 2022 le obbligazioni registrano la peggiore performance dal 1990. Piazza Affari perde il 13,3%, capitalizzazione totale ridotta di 626,2 miliardi. Oggi c'è un'intervista poi al ministro per le imprese Made in Italy Urso che dice per la politica industriale serve un fondo sovrano europeo. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ci rivediamo tra pochissimo per continuare a leggere i giornali. Bentornati studio proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus e siamo all'apertura del fatto quotidiano. Anche questa come vedete è dedicata al covid. Mascherine, vaccini, schillaci, fotocopia, speranza. La circolare è identica a quella di tre mesi fa del contestatissimo ex ministro. Dopo i liberi tutti cominciato con Draghi il governo fa i conti con l'emergenza, allerta le regioni sui posti letto e pressing sulle quarte dosi. Il foglio, firma di Claudio Cerasa, i sette vizi di Meloni, imbarazzo sui vaccini, europeismo claudicante, complottismo contro i francesi e sull'immigrazione, disprezzo per le banche e per l'innovazione, evasione dalla realtà sul fisco. Un bilancio di fine anno. Il domani, il 2022 ci ha insegnato che la disuoglianza è una scelta politica. Il governo Meloni toglie i poveri per dare ai ricchi ma alcune riforme di welfare e gli interventi contro l'inflazione dimostrano che in Italia qualcosa si può fare. Apertura del giornale, soffocati dall'assistenzialismo, la disfatta del sud, più pensioni che stipendi, aumenta il divario con il nord, gli assegni dell'Inps superano i contratti di lavoro e c'è il record di redditi di cittadinanza. Libero, anno 2022, i peggiori dell'anno e fa appunto questa carrellata. Ci sono Enrico Letta per Libero, Putin, Speranza, Christine Lagarde, Suma Oro e Alessandro Orsini. Vediamo anche il tempo, il decreto Leive e Legge sull'ok appunto dell'Aula. Ancora la verità, ci risiamo con la caccia ai Novax, ossessionati dai vaccini scordano che i malati vanno curati. Ancora l'apertura dell'avvenire fiammate Covid sulla situazione appunto e quanto sta, come ci si sta regolando in Italia. Ma dalla prima pagina volevo farvi vedere anche il richiamo a questa, diciamo al parere di Giovanni Maria Flick, il professore sulle ONG, una norma assurda, troppo potere ai prefetti senza il controllo dei giudici. Allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani. Partiamo, visto che appunto è l'argomento più europeo sui giornali, dalle questioni che riguardano il Covid. Mascherine e smart working, il virus è imprevedibile su questa circolare con le indicazioni di ridurre eventi e capienze in caso di peggioramento. Regia Palazzo Chigi e no a chiusure Green Pass, così si prepara il governo. Meloni detta la linea, mai più lockdown, ma della scienza ci fidiamo sul tema. Le tensioni tra Forza Italia e gli alleati arrivano da lontano dalla scelta del Ministro della Salute. Dunque un tema quello del Covid che divide gli alleati. Nel paese che trema per la nuova ondata chiudono gli ultimi hub vaccinali, dismessi centri maggiori come Capannoni di Bologna e Prato. Da 3.000 si passa a 2.500 punti, soprattutto a ambulatori. L'immunizzazione va a rilento e manca una campagna efficace per i 12 milioni di anziani e fragili ancora senza quarta dose. Questo appunto è il punto che fa Repubblica e a Palermo riapre la fiera, fermate il trasloco, è il record di test e di iniezioni. L'unico punto rimasto aperto in Sicilia, il dietro fronte dopo la minaccia che viene dalla Cina. È stato dunque riviato lo stop che era previsto per oggi, annunciati altri 4 centri nel capoluogo, gli immunizzati passati da 50 a 250 al giorno. Dunque gli appelli alla vaccinazione, soprattutto per anziani e fragili, evidentemente stanno avendo un riscontro. E intanto i voli dalla Cina, l'Unione Europea si divide sui test, si di Parigi e Madrid, ma Berlino dice di no. Tamponi e sequenziamento anche il Regno Unito segue l'Italia, i risultati di malpensa, metà dei passeggeri provenienti dalla Cina era appunto positiva. Andiamo sulla stampa dove volevo segnalarvi questa intervista a Silvio Garattini che dice siamo in grado di armarci per la guerra ma non per affrontare le pandemie. Il ministro è stato tempestivo, dice, ma va rinforzata la sanità. E dunque appunto questo è il parere di Silvio Garattini che trovate sulla stampa. Vi volevo segnalare anche questa intervista che troviamo a Giovanni Donzelli che parla della commissione d'inchiesta. Subito la commissione d'inchiesta, chi si oppone fa un favore ai Novax, il deputato di Fratelli d'Italia sulla gestione della pandemia. Il Movimento 5 Stelle collabori se non ha nulla da nascondere sul Covid nel governo Cermoni. Abbiamo il pieno controllo della macchina statale. Andiamo sul Corriere per vedere quello che riguarda l'approvazione del decreto Rave che c'è stata appunto ieri alla Camera. E Bagarre proteste sui medici Novax, segnale da Forza Italia. In 13 non hanno votato e il capogruppo Cattaneo frena. Erano giustificati. L'ok è arrivato dopo la ghigliottina e dunque è stato necessario tagliare appunto tutti quanti i tempi per arrivare alla sua approvazione. Il Lito Medinaula denunciava i gestacci della destra. Ieri è successo un po' di tutto appunto in aula. Anche questo purtroppo. Andiamo eccolo qui sulla Repubblica perché vi volevo segnalare questa intervista che c'è all'esperta dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, la Salmaso, Stefania Salmaso. Messaggi sbagliati. Ora siamo in ritardo sulle dosi. Richiamo non soltanto per i fragili. Vedete dunque lei va oltre. Perché la campagna vaccinale da mesi è praticamente ferma. Le viene chiesto perché il Covid ha smesso di essere un tema importante per l'opinione pubblica ma anche perché la comunicazione, uno dei talloni d'Achile dell'intera pandemia, è stata caratterizzata da messaggi contrastanti e non incisivi. E dunque adesso bisogna praticamente in qualche modo recuperare. C'è un'intervista oggi sulla Repubblica Alice Ronzulli, la capogruppo di Forza Italia al Senato. Abbiamo detto appunto che Forza Italia ha preso un po' le distanze sul Decreto Revi e in particolare sulle questioni che riguardano i Novax. Un errore. Le norme sono i vaccinati, dice in questa intervista. E poi sottolinea attenzione a liberi tutti. Considero un grave precedente il reintegro dei medici Novax. L'invito di Forza Italia è vacciniamoci tutti. E poi parla anche della manovra approvata, dice la migliore possibile. Bene il codice sulle organizzazioni non governative, ora avanti con la giustizia. Dunque su tutti gli altri argomenti c'è sintonia con la maggioranza, con gli alleati. Altra intervista che vi voglio segnalare su un altro argomento è quella che troviamo sulla Repubblica sempre al Ministro dell'Interno, Piantedosi, per le questioni che riguardano il Decreto Sicurezza. In Libia svuoteremo i centri di detenzione. Il titolare del Viminale sottolinea che le ONG fanno la spola con la Tripolitani e spingono le partenze, ma è lo Stato a salvare nel 2022 a soccorso il 43% degli sbarcati. Da gennaio al VIE colloqui con i partner africani, dice in questa intervista, le morti in mare si fermano solo fermando i barconi. Non sono la faccia feroce del governo. In 30 anni ho sempre guardato all'impatto sociale di ogni scelta e poi inviamo i migranti in tutti i porti, non più soltanto al sud. Questo spiazza chi predica l'accoglienza a parole. Questa infatti è la nuova linea del governo per quanto riguarda gli arrivi. Di migranti ha parlato anche Giorgia Meloni ieri in un videomessaggio. Difende il decreto contro le organizzazioni non governative. Nel diritto non c'è la spola con gli scafisti. Replica alle critiche e dice stride che i sabataggi li facciano navi commerciali. Non ci fermeremo con queste norme. E ancora, sempre dalla stampa, migranti, le verità scomode, presidenti e dittatori generano profughi rubando i loro paesi con l'attiva collaborazione dell'Occidente. Toleriamo quei regimi perché ci forniscono materie prime o presidiano per noi zone infestate dai terroristi. Questa è l'analisi che trovate sulla stampa a firma di Domenico Quirico. Diamo un'occhiata anche alle questioni che riguardano i rapporti tra Cina e Russia. Si tende la mano a Putin ma la Cina spinge per la pace. Colloquio in videoconferenza tra i due leader che annunciano un rafforzamento della cooperazione economica e militare. Il presidente cinese ha invitato l'omologo a non chiudere le porte al negoziato pur consapevole che la strada non sia agevole. L'ultima intervista che vi volevo segnalare la troviamo sul messaggero riguardo alle questioni economiche ed è al presidente di Confindustria Bonomi. Dice il lavoro sta cambiando, nelle imprese servono contratti legati ai risultati. È tutto per la rassegna stampa di questa mattina e adesso è il momento di Paolo Sottocorona con il meteo. Sì buongiorno, questa è la situazione delle deboli piogge previste per oggi perché parlare di piogge ovviamente è eccessivo. Partiamo dal sud questa volta dove non c'è assolutamente nulla e spesso anche ampie schierite quindi neanche nuvoloso. Poi qualche nuvola sulle zone del centro, le debolissime piogge che potrebbero interessare in parte l'Alto Lazio, la Toscana ma soprattutto sulle zone dell'Appennino. Poi ci si estende verso la Liguria, Basso Piemonte, sempre piogge debolissime. Siamo sul filo di un millimetro, massimo due millimetri in tutte le 24 ore. Quindi spesso piovigi, insomma cielo un po' grigio, tempo un po' grigio. Qualcosa rimane dell'attività di ieri sul Friuli Venezia Giulia ma molto poco. Vediamo la giornata di domani e qui vedete che rimane tutto sostanzialmente identico, non cambia molto. Sempre la zona della Liguria che potrebbe avere un tempo un po' più grigio e leggermente piovoso, piovigginoso. Il nord-est con qualche piovigine, per il resto non c'è assolutamente nulla. Quindi cominciamo, diciamo così, il nuovo anno e poi se andiamo a vedere la giornata di lunedì troviamo sempre la stessa, direi quasi identica situazione. Si affacciano delle piogge dalla Francia ma ancora piuttosto lontane. Quindi insomma in questi tre giorni sostanzialmente il tempo rimane quello che è stato un po' nei giorni precedenti. Le minime di questa mattina, sempre relativamente elevate al centro e al sud, specie sulle zone costiere. Vedete questa zona anche della Toscana, dell'Umbria, del Lazio con valori più alti e un pochino meno alti sugli altri versanti ma insomma siamo sempre abbondantemente sopra le medie. Chiudiamo con lo stato dei mari che sono tutto sommato tranquilli, solo quelli occidentali, Mar Ligure, Mare di Corsica, Mare Canale di Sardegna, localmente mossi ma insomma appena appena oltre quello non si va. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi. Grazie. Grazie.